Ha girato molto per... No, io abito per fortuna qua vicino, solo che ho fatto già tre quarti d'ora di fila. Gli ultimi fortunati che riescono a fare il rifornimento sono queste persone in coda da parecchi minuti prima di rifornire le proprie auto. Signora, sta attendendo da molto? È da un quarto d'ora, più o meno, un quarto d'ora a venti minuti. Ha girato la città per trovare carburante? Un paio, un paio di distributori. Quanta benzina ancora avete? Credo per un'altra retta al massimo. Dopodiché aspetteremo che ci rifornisca. Fino a venerdì è difficile avere poi nuova benzina? Ci auguriamo che almeno per il minimo indispensabile facciano uscire qualche cisterna. Le strade cittadine si trasformano in un budello, clacson impazziti, automobilisti impazienti per la corsa al pieno, verde o gasolio che sia, in queste ore il rifornimento è roba di lusso. Sono anche abbastanza preoccupato perché dopo lo sciopero dei tir si prevede quello dei benzinai, quindi non so... E soprattutto la preoccupazione non è tanto per gli utenti finali quanto magari per chi usa la benzina per lavorare come ad esempio le tue ambulanze, le forze dell'ordine. È un'accusa inconcepibile, un'accusa veramente che per una grande città non ci sta per niente. I sindacati che tutelano i gestori si difendono. La Fegica Cisla ha chiesto al prefetto di Bari di intercedere con il governo affinché i titolari delle pompe di carburante possano rifornirsi anche da marchi privati, eliminando parzialmente il vincolo di esclusiva. Non abbiamo ancora ricevuto risposte, spiega Domenico Guastamacchia del sindacato Fegica. Le cisterne dei privati sono piene, potremmo rifornirci da loro ma evidentemente anche questa protesta dei trasporti è strumentale, denuncia Guastamacchia.